La questura di via indipendenza ad Andrea Sifara e la sua realizzazione procederà spedita a partire da settembre e sino al primo semestre del 2020. Il collaudo della struttura stessa è invece previsto subito dopo metà anno. E' questo il cronoprogramma venuto fuori da un incontro avvenuto due giorni fa a Roma presso il Ministero dell'Interno e che ha visto tra i protagonisti sia il prefetto della BAT, il dottor Emilio Dario Sensi, che il commissario del comune di Andrea, il dottor Gaetano Tufariello. Dopo molteplici ritardi e problemi di tipo burocratico nati essenzialmente per la necessità di approvare una variante progettuale che ha bloccato tutto per ben oltre sei mesi, si ripartirà dunque a settembre prossimo per concludere l'ultima fase di edificazione e sistemazione dell'immobile di via indipendenza. Ad affiancare prefetto e commissario ci sarà anche una dirigente della polizia, cioè Isabella Fusiello, andriese di nascita, ma attualmente in servizio a Roma ed ex questore di Trieste. La volontà, insomma, sembra davvero esserci per ogni attore in campo, sperando che i lavori procedano ovviamente in modo spedito come da cronoprogramma. Nell'incontro romano si è anche discusso del secondo stralcio dei lavori inerenti la sede della istituenda sezione di polizia stradale. Accanto allo stesso edificio di via indipendenza si è definita la strategia con l'intese ed il fattivo apporto sia del Ministero che dell'Agenzia del Demanio per proseguire rapidamente di incontinuità le intese convenzionali già avviate sul territorio della provincia ed in modo soprattutto da concludere anche questo importante iter velocemente.